Salve a tutti, benvenuti su questa serie molto temporanea che prenderà il posto del foot tradizionale soltanto per il periodo dei mondiali. Ora, questa serie sarà particolare perché non soltanto perché giocheremo il foot del DLC, ma perché voglio giocarlo a modo mio. Ora, intanzitutto vi faccio vedere la squadra che ho attualmente, anche se è una squadra che ti erano usando in maniera molto tradizionale. Diciamo che mi sto facendo una squadra europea, un po' come tutti, ho trovato anche qua un'icona. Comunque è così, allora, Lloris, poi abbiamo questo che comunque ha Danny Rose, Rami, Sule e Storusso, Fernandez. Lloris, Centrocampo, Zagojev, Osil, Deco, Asenzio, Timo Werner e Vasquez, più altri giocatori in riserva, sono qui, fra cui, vabbè, prestito per lei, insomma, è un po' di gente così. Però è per ora europea, anche se appena posso, vorrei provare una cosa particolare. Questa sarà, allora, sarà una serie di chi non ha la pretesa di vincere. E cioè, proveremo a vincere, ma l'obiettivo sarà divertirci, fare le robe assurde, anche perché se si gioca per vincere, qua si ci fa soltanto il sangue marcio. Io ho visto giocare alcuni a questo DLC ed è qualcosa di devastante. Io stesso ho giocato qualche partita, pochissime, a dire il vero, e mi ritrovo questa descrizione di gioco, di un gioco che rappresenta qualcosa di devastante. Ora, diciamo come al solito, faremo una partita con le titolari e riserve, titolari online, riserve da giocatore singolo. Ora, iniziamo comunque sbustando dei pacchetti, come al solito, faremo tutto qui. Poi, sbustando i pacchetti, vi darò una piccola novità che ho in mente. Allora, iniziai a sbustare intanto un paio di pacchetti, così al volo, anche perché lo sbustate un sacco per cercare di fare una cosa, ma niente, infatti, i crediti li ho anche finiti tutti. Comunque, iniziamo con pacchetto standard FIFA World Cup. Vediamo cosa viene fuori. Viene a fare giusto un paio di sbustate, così senza impegno. Viene un Uruguayan, sterno destro e chi è? Sanchez! Bene. Per modo di dire, bene. Comunque, non ci serve. Non ne abbiamo proprio... Proprio, non ci serve per nessun motivo al mondo. Abbiamo, terzino destro, Sanchez... Enrix. Terzino destro, Enrix. Enrix, Enrix. Posso vedere l'antiorosa attiva, perché non mi ricordo se la riserva era messa meglio o peggio la riserva. No, versalico, ok, perfetto. Quindi Enrix può andare serenamente a quel paese. Qua abbiamo Lopeteghi. Forse Lopeteghi può servirmi di più. Comunque, vediamo. Abbiamo Francia, Cade, Questa è un'unità. Questo blocca... Scatto questo pacchetto me lo tengo per... Per il foot quando lo riprenderemo. Questi due stadi... Diciamo che vanno tranquillamente a quel paese. Poi abbiamo... Divisa Russia, divisa la Francia. Nulla di che. Direi che tutto questo, tutto il resto, può andare al club. Ok. Ora. Direi un altro... Direi proprio il pacchetto premio. Proviamo... Anzi no. Pacchetto due giocatori. Dai. Apriamo il pacchetto due giocatori. Due giocatori 81 e passa. Vediamo un po' se viene qualcosa di buono intanto per questa squadra. No. Già è abbastanza evidente che non... Casemiro! Lo sapete la cosa bella è Casemiro? È che c'è il doppione. Ce l'avevo già pescato Casemiro. Ho questo. Per fortuna posso mettere a deposito doppioni. Questo è Song Heung Min. Coreano. Sono tutti uguali coreani. Comunque direi di inviarlo al club. Boh. Bene. Molto bene. Molto bene così. Ora. Prima faccio una piccola cosa. Ok. Ho fatto un piccolo attestamento. Vabbè. Solito discorso. Solito discorso diciamo. Per evitare rompere scatole al mio avversario. Quindi direi che facciamo una partita online. Per la prima partita online. Facciamo online. Ho già confrontato due partite. Una l'ho vinta. C'è una l'ho persa. 2 a 1. L'altro l'ho vinta. Abbastanza bene. 4 a 0. E adesso abbiamo la terza. Vediamo un po' se ci qualifichiamo. Per questa. Prima. Da questa prima fase. Riusciamo a superarla. Io dubito. Perché sono scarso. Perché. Perché. C'è qualcosa di devastante. Però. Nel fare questo. Vi annuncio. Una piccola cosa. Terrà un counter. Dei infortuni procurati. Perché il nostro obiettivo. Sarà quello. Non sarà solo vincere. Ma rompere. Quanti più giocatori possibili. Si gioca per rompere giocatori. Si gioca per rompere gambe. Così. Con il pieno spirito. Dell'ignoranza. Si gioca per rompere le gambe. E avanti. Così signori. Ovviamente con la maglia. Della rabbia saudita. Perché tutti quanti voi. Sapete. Insomma. Chi segue. Chi magari di voi. Segue. Minchia. Guarda che squadra che ha questo. Dicevo. Chi di voi. Vabbè. Figurati. Se posso fare qualcosa. Comunque. Chi di voi. Segue la mia serie. Calcio, kebab e fantasia. Sa benissimo. Di cosa passa. Benissimo. Perché ho scelto. Perché io. Come squadra. Come. Come. Diamo squadra. Come. Bandiera. Tutte cose. Ho scelto. L'Arabia Saudita. Ora. Vai. E ora si rompe. Yeah. Allora. Vediamo un po'. Ok. Ok. Zagoyed. Vediamo un po'. Non si riesce a fare. A senzio. D'ecco. I daglielo. Ok. Vai Zagoyed. Ah. Calma. Ok. Werner. Uh. Uh. Werner. Peccato. Va bene. Dai. 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 Vai. Niente. Bo. Ok. Giochiamo il circolare con calma la palla. Ok. Lucas Vaz. Benissimo. Crossala. Angolo. Ok. Allora. Io direi. Ok. E facciamo. Dai. Oh. No. Io non volevo. Vabbè. Crossala. Bella. No. No. Va. Quello si è saltato. Ok. Ora si rompe. Si gioca per rompere gambe. Yeah. Ok. Vediamo un po'. Non è ricaro. Vai. Ok. Dovete. Rompere gambe. Però si cerca anche di vincere. Insomma. Rompere gambe e con raziocinio. Con razionalità e con raziocinio. Ok. Due. E vabbè. La difesa. La difesa completamente per ognuno. Per i fatti suoi. Ora capite perché mi sono messo l'obiettivo di rompere gambe. Perché se gioco per vincere non ha senso giocare. Quindi. Partiamo con una cosa divertente. Penso sia divertente eventualmente questo. Vediamo cosa si riesce a fare. Calma. Questo ha cominciato a fare passaggi a finire. A tempesta. Perché. Oh. E vabbè. Poi con questi giocatori qua. E' anche difficile fare qualche cosa. Fuori. Ok. Va bene. Ioris. Perché. Io ho premuto. Per fare il mio lungo. Non mi ha fatto il mio lungo. Va bene. Di testa per il compagno. Ah. Vai. Vai Osil. Ok. Deko. Zagojev. Fernandez. Zagojev. Vai Ferran. Ancora Ferno. Vai Fernandez. Clus. E niente. Non va. E non va. La gioca a Pele. Ma. Dai. Dov'era sto fuorigioco. Ok. Vai Deko. Ok. Osil. Zagojev. Fernandez. Bella. Lucas. Clus. Niente. Terzino. Ci arriva. Ci arriva. Sì. Rosso. Crosso. Sagojev. Peccato. Va bene. Dai. Dai. Vai. Vai. Timo. Asensio. Attenzione. Però dai. Possiamo. Tocarcela. Ok. Riccardo. Ok. Adesso. Calma. Allora. Fuori. 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 Di là. Ma che cos'è sta cosa? Che hai fatto? Tutto. Oh. Qualcuno ha la rampa? Sono un giallo. Niente. Nessuno. Nessuno. Infortunato. Pazienza. Va bene. Che questo proprio. C'è. E' scantato. Va di prima. Solo esclusivamente di prima. Ha paura. Sto almeno ha capito. Ha paura che gliene rompe. Va solo esclusivamente di prima. Ah. Angolo. Vabbè. Se le man... Vabbè. Comunque. Buono. Vai. Niente. Comunque. Dai. Lloris. Lunga. Spizzala. Per niente. D'ecco. Zagoi. Te due anni fa però. Va bene. Ok. Bene. Fernandez. 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 Il crossolo di Fernandez. Niente. Fernandez. In faccia. Vai. Vai Lucas. Vai Lucas. Cross. Uh. Che tante volte... Comunque vabbè. Yashin lo ha salvato. Sti cross. Ericsson. Vai. Riccardo. Riccardo. Ah. Nostra. Ha sbagliato lui. Fatto tutto lui. Quindi noi rinviamo lungo. Se magari la spizzi. È meglio. Bene. Niente. Fernandez però. Ecco. Asensio. Due anni fa l'ho premuto però. Vai. Oh. Ronaldo. Non l'ho preso bene. Non l'ho preso bene come dovevo. L'ho preso poco poco alla fine. Proprio un tocchetto leggero. Sule. Ammonito. Sule. 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 Ok. Lancia. Lungogioris. Vasquez. Werner. Potevi farmela giocare. Arbito. Comunque va bene. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Cristiano Ronaldo fino a questo momento. Può essere contento. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Comunque lui è spaventato a morte dall'idea che qualcuno gli si infortuni. Sta giocando solo esclusivamente di prima. Proprio sono i passaggi di prima della paura. Veramente i passaggi di prima del terrore e della paura. Comunque. Vediamo. E continuiamo a giocarci la partita. Vediamo come va. È abbastanza ovvio che non passerò il turno. Perché devo per forza vincere. Sono sotto. Non sono in grado di vincere. È abbastanza evidente che non sono in grado di vincere. Vai Zagoyeb. Vai. Calma. Calma. No ho preso la palla stavolta. Ho preso la palla. Stavolta ho preso la palla. Stavolta ho preso la palla. Ok. Ok. Va bene. Eh. Cioè. Vabbè. Purtroppo così è. Neanche. Neanche la soddisfazione è l'infortunio. Espulsione per dirvento fondamentalmente regolare. Perché comunque il pallone avevo preso. Cioè. Comunque. Va bene. Cioè. Vedete. Insomma. Ah. E vabbè. E vabbè. Così è signori. Va bene. E vabbè. E vabbè. E vabbè. Ok. Allora. Asensio. E vabbè. E vabbè. Deco. Vai sulla fascia. Rose. Rose. Lucas. No. E vabbè. Osil sulla fascia. Passala. Asensio. Cross. Zagoyev. Zagoyev. Vabbè. Vabbè. E vabbè. Quando il portiere ce l'ha. Purtroppo succede anche questo. Eeeh. Vai. Rompilo. Niente. Non. Si sono. Si rialzati. Ce le ha. Si è rialzato. Pazienza. Vai Osil. Poi. Zagoyev. Timo. Eeeh. 2-1. Vai. Prendi sta palla. Prendi sta palla. Vaffanculo. Io direi a sto punto. Ma proviamo a fare i cambi. Dai. Proviamo a fare i cambi. Vedere un po' la situazione. Allora. Io direi. 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 Direi qua. E. Werner qui. Poi. Pozzo di Zagoyev. Weigel. E Martial. A posto di Asensio. Ok. Oppure. Vabbè no. Pele. Sì. Pele. Mi fai fare sti cambi. No. Non mi ha fatto fare i cambi. Non mi ha fatto fare i cambi. Va bene. Comunque c'è il fatto con questi giocatori qua. Sta solo 2-1 avanti. avrebbe dovuto farmi l'infinito di golle oltre. Solo 2-1. Cioè insomma. E vabbè. Pazienza. Pazienza. D'altronde uno in meno ci può stare. E vabbè. E vabbè. La cosa bella è che saranno... Io faccio appunto la cosa bella è che saranno di gommiti. Ah che sono bravo. Che sono forte. Che sono bravo. Io non ho capito che questa la sto giocando in me è completamente diversa dal foot normale. Io ho la... Ho la... Come posso dire? La... Oh vai rompilo. Niente. Si è rialzato. Pazienza. Purtroppo gioca ancora. Si è rialzato. Vabbè. Quello non è ostruzione. Va bene. Vai. Partial. Bella. Rose. Attenzione Rose. 3-2. Niente. Non mi... Non mi fa prendere il pallone. Va bene. Ok. Avanti. Vai. Vai Timo. Niente. Allora. Ah. Ah per lei. Fermi. Fermi. Oh. Parazzo. Gli ingang. Grazie. Vai. Vai Rodigo. Ah no. L'ha fatti i cambi. Ti però non me ne fa fa. Bravo Deco. No Werner. No Werner. Peccato. Vabbè dai. Vai. Ah. Niente. Non... Ok. Vai. Bene. No. Pizzala. Ok. Werner. Barzial. Si avvicina all'area. Barzial. Crossala. Bene. Niente. Lancia lungo. Bacosa. Vabbè. Almeno spero che si sia rotto. Meno spero che sia rotto. Niente. Non va bene. Barziano. Vai. Osil. Niente. Non mi fa fare nulla. Io sono la squadra distrutta. Olè. Beagle. A chi cazzo la dai? Beagle. E infatti voglio portare entrare. Pelè. Non Beagle. Però va bene. Vai. E va. Finisce qua. Finisce qua. Pazienza. Con un pacchetto in più. Eventualmente sbusteremo dopo. Non saprei. Comunque. Lo sbustiamo dopo. Magari diciamo. Li sbustiamo dopo alla fine. Alla fine di questa. Oppure no. Comunque vedremo. Adesso c'è. Ce la penseremo bene. Ce la penseremo bene. Ovviamente non sono passato. Mi sembrava. Mi sembrava ovvio. Sapete che c'è. Io mi sbusto questo. Vedi pacchetti. Mi sbusto questo. E me la rigioco con il titolo. Anzi. Me la gioco di nuovo online. Vabbè. Allora. Pacchetto giocatore singolo. Vediamo chi viene fuori. Vediamo chi viene fuori. Oh. Fermi tutti. Danese. Vittore centrale. Christensen. E qua c'è un cambio. Qua c'è un cambio tra i titolari. Io la vediamo. Alla rosa attiva. Alla rosa attiva. Lo mettiamo al posto di. Qua c'è Granquist. L'altro. Chi è? Boh. Danese per Danese. Ok. Poi. No. Sì. Giusto. Qua. Danese per Danese. Questo. Val club. E tanti saluti. Ok. Ora. Io direi. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Io. Voglio rigiocarlo. Voglio rigiocarla. Dai. Torne online. Sì. Oggi facciamo due partiti online. Così. Va bene. Oggi. Oggi. Siamo. Questo. Voglio che. Voglio che questa. Che questa serie sia irregolare. E questo è il discorso. Voglio che questa serie sia completamente irregolare. E così farò. Allora. Io direi. Facciamo una cosa. Mettiamo. Christensen. Qua. Posso dire. Sule. Per questa partita. Non ci sarà. Pazienza. Werner. Direi. Mettiamo. Posso suo. Rodrigo. Werner. Direi. Krikowiak. Mettiamo qua. E. Signori. Facciamo una cosa carina. Oggetto. Allenamento. Squada. Altro. Allenamento. Forma fisica. E. Si riparte. Non. Non. Non mi è piaciuto. Non ho avuto la soddisfazione. Non. 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 La. 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 La soddisfazione. Che ho voluto. Io. Non l'ho avuta. Intanto. Questo. Appli consumabile. Gli mettiamo. Gli spariamo un contratto. A questo qua. Gli spariamo un contratto. Oh. Questo. Va bene. Gli spariamo questo. Va bene. Uguale. Non mi ha dato soddisfazione. Voglio farne un altro. E voglio fare un altro. Gioca partita. Vai. Giochiamo la partita. Giochiamo partita. Avanti. Avanti. Nei prodi. Avanti. Ne giochiamo un'altra. E poi con questa ci salutiamo. Sai che quasi quasi mi sta venendo in mente l'idea che non le giocherò. Non le giocherò. Eh. Sì. Va bene. Ok. Va benissimo così. Per me va bene. Vuoi giocare in quella maglia. Comunque. Mi sa che queste le giocherò tutte online. Tanto comunque. Ripetito. Non. Non ho proprio l'obiettivo. Non ho l'unico. Non è che non ho l'obiettivo di vincere. Non è il mio unico obiettivo vincere in questo gioco. Quindi. In questa DLC. Perché insomma. Giocare per vincere significa non godersi di DLC. Io me lo godo a modo mio. Voglio vedere. Quanto. Voglio vedere quante caviglie si riescono a rompere in questo. In questo gioco. E vediamo un po'. Metterò ovviamente un counter. Che per ora è zero. Perché purtroppo non ci sono stati. Purtroppo. Non sono riuscito a causare nessun infortunio. Al momento. Però vedremo. Insomma. Ci impegneremo a fondo. Certo. Ma. Va bene. Come. Con il senso. La prima. Annalizzata per stabilire il risultato finale. Che è successo? Perché la partita si è interrotta? È crashato lui? Cioè. Penso sia crashato lui. Perché insomma. Ok. Pareggio. Quindi mi dà il pareggio? Meravigliosa sta cosa. Non so. Nel bene o nel male è meravigliosa. Io spero che non me la conti questa come partita. E non mi dia un punto. Perché. Veramente sarebbe. Ah ecco. Mentre io sto sentendo. Cioè. È bellissimo. Cioè. Questo. Per far vedere quanto è bugato. Anche questa. Questo. Questo DLC. Per far vedere questo DLC. Anche quanto è bugato. Cioè. Avete sentito. Insomma. Ho sentito. Cioè. Penso sia io ho sentito. I. I rumori da stadio. C'erano i rumori da stadio. Qua nel menu. Gli effetti audio dello stadio. Comunque direi che tutti sono. È a posto. Ok. Possiamo andare. Dai. Andiamo. Dai andiamo. Andiamo. Andiamo a giocarci la partita. Andiamo a giocarci questa partita. Stavo dicendo. Prima che avesse la linea. Babby team. Ok. Ma. Perfetto. Beh. No. Nero addirittura. Stavo. Sì. Che ne dici? Ok. Dicevo. Stavo fatto le maglie verdi. Non so. Non so. Dando un po' di fastidio. Perché si confondono col campo. E quindi. Come va. Tu. Oh. Don notando. Questo. C'è. È terzo. Terzo avversario online. Che becchiamo. Su tre avversari online. Due c'hanno Yashin. Come portiere. Come mica è possibile sta cosa. Vorrei tanto capirlo. Ma vabbè. Comunque. Dai. Tocchiamo. C'è la. E ci divertiamo. Ci divertiamo. Ci divertiamo. Oh. Questa. C'ha Cristiano Ronaldo. Ora. Calma. Calma. Vieni un po'. Dai. Ok. Asensio. Asensio. C'ha Asensio. Che battuta tristissima. Ma va bene. Lo stesso. Comunque. Zagojev. Grazie all'arbitro. Perché non. Ringrazio all'arbitro. Dove ho fischiato sto. Sto. Calcio. Calcio. Sto. Calcio. Calcio. Che lo stavano ripartendo. Comunque. Meglio così. Fernandez. 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 Crossala. Gnang. Vabbè. Prendi il portiere. Prendi il portiere. Boom. Aspetta che forse c'è il primo. Aspettate che forse c'è il primo. Forse c'è il primo rotto. Vediamo. Se c'è il primo rotto. Il primo infortunato. Contano anche quelli temporanei. Eh. Lo dico. Non lo so. Non l'ho visto. Se lo dà per rotto. Non l'ho visto. Vediamo. Ok. Dagojev. Fernandez. Vai. Vazquez. Vazquez. Cross. Niente. L'arbitro non l'ha visto il pallo. Niente. 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 Mi sa che non è infortunato. Mi sa che non lo dà per infortunato. Pazienza. C'è. Ci siamo arrivati vicino. Prossima volta andrà meglio. Oh no. Vazquez. Però devi prendere la gamba. La caviglia. Il pallone. Perché anche se prendi il pallone ti rischia il fallo. Quindi. Cioè. A questo punto prendi bene la caviglia. E lo debiliti. No. Comunque. Vai Deco. Deco. Corra Deco. Corra Deco. Per Asensio. Cross. Niente. Boom. Vai sul portiere. Niente. Certo. Sarebbe. Se riesco a infortunare il portiere. Vale doppio eh. Facciamo così. Boh. Dite voi. Allora. Allora. Lucas Vazquez. Fernandez. No. Asensio. Uuuu. Angolo. Allora. Io direi. Così. Cristian. Niente. Niente. Dai. Deco. Crossala. Niente. Deco. Passa. Asensio. Tiro. Dispinto. Lucas. Goal. 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 Ma chi l'ha messa? Chi è questo? Dovrebbe essere Lucas Vazquez. Lucas Vazquez 1 a 0. Vai. Ok. Allora. Calma. Ok. Asensio. Lì. No. Mi infortunano i miei? Dai. Riprenditi. Riprenditi. Devono essere quelli degli altri a essere rotti. Non i miei. Bene. Vai Fernandez. Crossala. Di testa. Asensio. Uuuu. Io cerco di fortunare. Poi se si vince anche meglio. Questo si prenderà un giallo. E ole. Luis Hernandez. Io direi. Direi fare così. E poi. Così. Rotrico. E vabbè. 2 a 0. Rotrico. Pausa richiesta per Bobby King. Mi sa che sta per ragequittare. Olè. E ha ragequittato. Che bello. Che bello. Proprio. Stiamo. Stiamo tirando fuori. Penso. Il peggio. Stiamo tirando fuori. Veramente. Il peggio. Di tutti. Come posso dire. Questo DLG. Veramente. DLG. Davvero. Tira fuori. Il peggio. Della community. Di FIFA. Proprio. Cosa meravigliosa. E. E lo faccio apposta. A giocare in certa maniera. A giocare per rompere i giocatori. Cos'è. Lo faccio apposta. Perché proprio. Tiro fuori quello che è il peggio della community. È un esperimento. È un esperimento questo. Come vi faccio tanti. Voglio fare un esperimento anche sulla formazione. Fa un esperimento su tante cose. Qua non si gioca per vincere. Gioca per sperimentare. Per. Per divertirci. Boh. Visto che sta partita è durata praticamente nulla. Quindi. Neanche il primo tempo. L'ho finito. Va. Facciamo una cosa. Concediamocene un'altra. Dai. Direi. Modifica formazione. E. Tu. Io. Applico i consumabili. Di te. Ti rinnovo la vita. Ti rinnovo la vita. Perché sei osile. Poi. Riprendo un attimo un po' di giocatori. Perché Timo Werner. È il titolare. Perché. Perché. Perché Sule qua è il titolare. Sule. Sule. Posto di Christensen. Olè. Direi. Allora facciamo una cosa. Tanto un'altra. Sule 97. Possiamo giocarla anche senza usare. La. 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 La cosa. Comunque. Io piuttosto fare un'altra cosa. Vedi i pacchetti. Sì. Vediamoli. Vediamo i pacchetti. Giochiamo. Apriamo questo. Dai. Pacchetto giocatore singolo. Vediamo cosa viene fuori. E poi giochiamo una partita. Perché insomma. Non è durata niente quella partita là. Insomma. Mi sembra brutto anche chiudere in quella maniera. francese. Esterno sinistro. Marziale. Coman. Kingsley. Coman. E che potrebbe essere interessante anche questo. Però lo inviamo al club. Ma potrebbe essere interessante. Poi sarà. Dovrò ragionarci un po' per i fatti miei. Detto questo. Direi. Andiamo ancora al torneo online. Visto che una partita sana. Non sono riuscito a farla. Dai. Dobbiamo farla. Dobbiamo fare una partita sana. Eh. Una partita sana. Devo. Devo avere io la. La soddisfazione. Di. 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 Di vedere un avversario portato in barella. No. Eh. Cavolo. Eh. Ora. Ricerca l'avversario. Allora. Tengo. No. Contro. HIVFC. Bello. Mi piace come nome. Eh. Allora. Ti va bene? Così va bene? Noi chiari. Voi scuri. A posto. Vai. Eh. La peppa. Si va bene. Eh. Quanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 icone questo c'ha. No ma. No ma pochi soldi c'hai speso. Comunque. Vai. Contropiede. Sono tante icone. Quindi probabilmente c'è. Ci potrebbe essere più piacere nel rompergliele. Se sono icone. Vai. Bene. Lucas. Due anni fa ha premuto. Ma va bene. Werner. 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 1 a 0. Werner. Timo. Timo Werner. Timo Werner. 1 a 0. Timo. 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 Questo se fai i trippi. Ti fa le finte per i fatti suoi. Beh fai pure. Tanto. Stai perdendo. Quindi fai pure. Io vi ce l'ho. Eeeh. E vabbè. Quando hai 7 icone in squadra segni per inerzia a un certo punto. Vabbè. Comunque 1 a 1. Va bene dai. Così. Apri. Di là. Cross. Cross. Niente. Ah. Niente. Non. Niente. Si è rialzato quello. Niente. Ho preso. Vai su. Niente. Ah. Boh. Quelle. Cioè. Maradona va se è caduto per lo spostamento d'aria però eh. No. Rami. Sì vabbè Rami. Cosa volevi fare. Di tutto nezza. Comunque. Comunque. Allora. Ioris. Lancia lungo. Spizza. Niente. Non. No. E che. Meno male. Meno male che Scarparo. Meno male che questo è Scarparo. Vedete. Comunque. Vai. Asensio. Il cross. Niente. Pizza dei test. Zagoyev. Uuuuh. Vinte. Va bene. Fa niente. Dai. Ancora. Vai. No. No. Lucas. Deco. Rose. No. Eh. Asensio. Parato. Ginte. Ah. Ti è infortunato forse uno dei miei. Eh. È giallo per basket. Pazienza. Ah. Ti è infortunato Werner. E che cazzo. Io non lo vuoi. Non va bene. Devo infortunare io gli altri. Non gli altri i miei. Eh. Non va bene. Ok. No. Vai. Deco. Ok. No. Ah. Come on. No. Sai che culo. Ma che culo ragazzi. Vabbè. Vabbè signori. Che dire. Un po' di fortunello. Vai. Fernandez. Zagojev. Fernandez. Crosso. Niente. Niente. Aspetta. Rompiamo chi è lì. Ah. Lucas. Niente. No. È orì. Bravo. Io ris. Fuori. Vai Lucas. Vai Lucas. Vai Lucas. Vai Lucas. Vai Lucas. Cross. Boom. Niente. Niente. Pazienza. Vai. Vai. Cross. Vabbè. Dai. Prendila. Vabbè. Vabbè. Il pieno svolgimento dell'azione offensiva fischia la fine. E vabbè. E purtroppo. Cos'è che capita. Comunque riprendi. Torno sessantesimo. Faremo un po' di cambi. E vediamo un po'. Asensio. Vai. Zagojev. Vai Zago. Ridagliela. Bella Zagojev. Ma che cazzo. Zagojev. I cross non vengono bene. Aspetta. Boh. Bella lì. Tibia e perone. Non devi sabbiare. Né la tibia. Né il perone. Rompilo. Vinte. Vai. Vai che... Manda via. Olè. Teco. Rose. Like a candle in the wind. Allò. Werner. Asensio. Cross. Duuuu. Angolo. Va bene. Io direi a questo punto facciamo così. Ehm. Ehm. Diciamo... Tipo qui. Ah. Sule. Ma no. Sule. Boom. Olè. Mario Fernandes. Mario Fernandes. Però sono restano tutti in piedi. Non siamo abbastanza incisivi con interventi. Arbitro che concede il vantaggio. Certa giusta. Non siamo abbastanza incisivi. Offensivi. Ah. Bravo Ioris. Ok. Asensio. Vai Lucas. Ok. Rose. Cross. No. Niente. Adesso. Vai. Niente. Rompi. Vai Lucas. Niente. No. Bro. Olè. Che mi dà? Un giallo. Eh vabbè. Sule. Eh. Comunque. Andiamo. E facciamo un po' di cambi. Allora. Come al solito. I soliti cambi. Perché c'è Quaresma lì? No. No Quaresma. Rodrigo. Al posto di Vagli. E direi. Rodrigo lo mettiamo qua al 100. Perché mi sembra abbastanza efficace. Al posto di Zagoyev. Ci mettiamo. Eh. Che ci mettiamo. Ci mettiamo. Vagl. Anzi no. Ci mettiamo. Pe. Pele. E a posto di Asenzio. Ci mettiamo. Martial. Ok. E andiamo. Giallo. Per Sule. Ecco. Ripartiamo. Werner. Occhio perché l'arbitro potrebbe anche estrarre un cartellino. Sì. Vabbè. Figure. Vai. Olè. Rose. Rosa ancora. Martial. Il cross. Pele. 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 Angolo. Va bene. E allora. Sto per il portiere. Io direi fare così. Trossa. Frami. Niente. La che è tua. Nova. No. E vabbè. Ma quello non era mio. Sule. Via. Niente. Oh. Fai Sule. Olè. Deco. Osil. Poi per di là. Pele. Via. Rodrigo. Martial. Torrico. Niente. Poi doveva tirato Rodrigo. Comunque vabbè. Ok. Allora. Direi. Sub a portiere. E facciamo. Così. Sule. Vinte. Boom. Sbracalo. Uscito. Dai. Niente. Comunque Maradona non si rompe. Boom. Oh. Niente. Non si rompe Maradona. Niente. Maradona non riusciamo a romperlo. Non riusciamo a infortunare Maradona. Ehm. Dai. Attenzione. Dai Deco. Niente. Ok. Dai. Dai Olisse. Niente. Vai Pelè. Pelè. Riparti Pelè. 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 Pelese. Vabbè. Ciao. Vai. Teco. Niente. Comunque lui sta parando qualsiasi cosa. Io direi di sub a portiere. E facciamo così. Rodrigo. Niente. L'ho mancato del poco. L'ho mancato del poco. E ciao. Questo è il gol. Vabbè. Sarebbe stato fuori gioco. Però perché. Vabbè. Comunque. Va bene. Ma magari. gliela lascia. E vabbè. Pazienza. Maradona. Comunque. Continua. Non gli si infortuna. Va bene. Pazienza. Pelè. Martial. Anche se dovrebbe stare all'altro lato. Va va bene. Werner. Chi ti sa c'hai? Werner. Chi ti sa c'hai? Cross. Niente. Vai. Osil. Fernandez. Rodrigo. Il cross. Niente. Pelè. Vabbè. Vabbè. Vai. Niente. E vabbè. E niente. Non riusciamo a infortunare i giocatori avversari. Rimane sempre a zero il contatore. Per questa puntata è così. Pazienza. Direi che ci riproveremo alla prossima. Più forti di prima. Più incisivi di prima. In nome del fair play. Cerchiamo di romperne quanti più possibile. Detto questo signori. Possiamo salutarci qui. C'è un appuntamento alla prossima. Quindi semplicemente un saluto a tutti quanti voi. E alla prossima.